Siamo molto soddisfatti di questi due giorni, due giorni che ha visto l'insediamento del Comitato Direttivo del Lupi, l'insediamento dei dipartimenti che saranno la fucina, il luogo d'incontro, il luogo del confronto, del dialogo e quindi siamo molto soddisfatti. Il dibattito di oggi, le riforme del Paese, le riforme istituzionali non potevano non partire dalle province. Noi siamo consapevoli che è necessaria una stagione delle riforme per riformare il Paese bisogna lavorare all'unisono, bisogna superare le divisioni politiche, bisogna superare maggioranza e opposizione, bisogna guardare ai dati, ai fatti, all'organizzazione dello Stato e quindi concorrere soprattutto all'attuazione della previsione costituzionale. Lo Stato è organizzato in comuni, province, regioni e Stato centrale. Noi oggi abbiamo offerto il nostro contributo, abbiamo detto che siamo pronti nella carta delle autonomie a far valere un disegno organico che veda le province ma anche i comuni a svolgere una funzione amministrativa che oggi purtroppo molto spesso viene divisa in moltissimi enti che sono delle sovrastrutture, che sono costi della politica e quindi noi vogliamo dare il nostro contributo alle province italiane. Un moderno Stato, un superamento del bicameralismo perfetto, un Senato che veda all'interno, certamente eletto dal popolo e che ha nel proprio seno le forze più vive delle autonomie locali e soprattutto si raccordi con l'Europa. Nella carta delle autonomie invece i ruoli, le funzioni delle autonomie locali, chi fa che cosa, riduzione dei costi della politica, velocizzazione delle procedure amministrative e quindi uno Stato che si riforma, un Paese che riparte deve lavorare all'unisono, deve lavorare in perfetta sinergia. Noi siamo consapevoli, siamo convinti che questa due giorni è servito a far ripartire il dialogo, la presenza di esponenti delle forze politiche, esponenti delle forze istituzionali, delle forze sociali e soprattutto la chiusura del Presidente Schifani che ha elevato il tono del dibattito, che ha portato un contributo notevole all'avvio del dialogo e quindi per noi è motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio e quindi una o due giorni di lavoro intenso, ma penso e spero molto proficuo.